Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un book tag sui classici che si chiama Classic Book Tag dove in realtà io sono stata taggata da Elena milioni di anni fa, l'avevo già anche segnato ma poi non l'ho mai fatto poi ho visto Andrea che insomma lo faceva in questi giorni e ho detto vabbè dai famolo che è una cosa veloce e rapida dove io non devo morire per scrivere un video quindi direi che oggi insomma parliamo di classici che è una cosa che non facciamo mai su questo canale tra l'altro lasciatemi anche lo spazio per fare una breve invettiva contro di voi, scherzo ovviamente però ovviamente io ho aperto questo spazio per parlare di fantasy, cosa mi chiedete di continuo di parlare di classici che nel senso io ho anche una certa preparazione sui classici, ne ho letti tantissimi ma non è un argomento che io ho interesse nel discutere e soprattutto fondamentalmente non sono nemmeno così preparata per parlarmene ma poi cioè io voglio star qua a parlare dei fantasy così io posso continuare a obbligarvi a leggerli anche se non ne avete mai letti perché il mio compito è quello nella community italiana di BookTube comunque a parte questo mi ha breve la mentela e vi ho parlato tendenzialmente solo delle mie opere preferite poi nemmeno nel dettaglio cioè diciamo proprio vi ho giusto snocciolati i titoli per chi non mi seguisse da diverso tempo insomma io ho diversi autori che amo molto, autori e autrici ovviamente che amo molto soprattutto legate alla prima metà del novecento italiano, americano, inglese ho anche delle opinioni abbastanza corpose poi sono anche in tutta quella fase dove bisogna leggere dei classici rileggere i classici anche con non so come dire un approccio assolutamente secolarizzato e contemporaneo quindi anche contestualizzare nulla è intoccabile io davvero credo che nulla è intoccabile soprattutto perché lo dico coscientemente rispetto anche alle mie opere preferite il mio classico preferito è Le notti bianche di Dostoevsky che è un libro che io amo alla follia ma direi che più o meno insomma nel mio arco dei preferiti ci metto sicuramente Lolita di Nabokov e è un'opera che quando si cerca anche di contestualizzare e criticare si ergono muri si ergono cioè ho letto robe che mi fanno sentire davvero allucinata tra l'altro ovviamente cliché della super femminista che ama Lolita vabbè ma tanto a voi non me ne frega niente vabbè comunque sto facendo un'introduzione di sei ore anyway quindi quello che voglio dirvi in questo pippone introduttivo è comunque anche di quei classici che amate molto tenete lo sguardo sul punto focale che è sicuramente apprezzarne gli aspetti migliori degli aspetti che la rendono una grande opera ma nessuna opera è intoccabile in un'ottica contemporanea dobbiamo sempre cercare anche di ricontestualizzare perché dire che alcune opere sono misogene nel 2020 non ne sminuisce un valore letterario ma contestualizza come alcune problematiche non siano mai state fatte emergere ok dopo questa invettiva vabbè raga a me dispiace perché voi veramente tutte le volte cioè in questi video io poi do il peggio di me vabbè anyway passiamo alla prima domanda quindi non sarà a caso tutto in questo video ve lo giuro c'è solo l'inizio a caso vabbè ok un classico celebre che invece a te non è piaciuto allora qua è super facile perché in realtà non lo so non è una domanda così difficile io devo dire che ho sempre avuto grossi problemi con tutti quei classici che hanno un fortissimo e strettissimo legame con la moralità e soprattutto la religione vedi i promessi sposi dove alla fine in tutto ciò c'è anche Renzo che credo sia capo della squadra misoginia in Italia e insomma schifo faceva schifo ma detto ciò l'opera non è una brutta opera è solo che a me chiaramente non è mai piaciuta perché i temi sui quali poggiava non sono temi vicino a me e poi anche tanti tantissimi proprio classiconi che ci vengono propinati dal nostro sistema scolastico mi perdonerete ma io non sono un amante della coscienza di Zeno ho un problema enorme con Pirandello proprio cioè non mi piace nulla di Pirandello l'ho sempre detestata la sua letteratura dal Fumatia Pascala o non ho nessun eccento proprio non è l'autore che fa per me e poi non so altre cose che mi vengono in mente c'è tipo Kundera cioè Kundera per me è leggibile poi non è una novità perché ve l'ho già detto tante volte tante volte mi sono anche scontrata con pareri abbastanza agguerriti però io ad esempio non sono un amante del Calvino romanziere anche se insomma l'unica opera che io davvero ho nel cuore è Il Sentiero dei Nidi di Ragno ma come in realtà ho nel cuore tantissime opere della Resistenza Italiana io lo preferisco moltissimo come saggista e soprattutto saggista in materia letteraria anche se ha fatto parte della rielaborazione del Fantastico in Italia sono d'accordo ma io non è un autore che amo molto per i suoi romanzi cioè Il Barone Rampante però non ricordo ancora Città Invisibili bello ma cioè è tutto un bello ma ok ah ovviamente non vi offendete se io sto parlando dei vostri classici preferiti mi pare superfluo anche dirlo però insomma come voi potete amare moltissimo alcune cose e altre le posso amare tantissimo io c'è assoluta libertà anche nel non innamorarsi di alcune cose io ripeto un po' la cosa che ho detto all'inizio per me nulla è sacro nulla è intoccabile si può leggere l'opera migliore del mondo e non provare alcun sentimento si può leggere la peggiore del mondo e sentirsi felici sentirsi provati sentirsi scossi questo per me è più importante che comprendere il valore letterario di un'opera perché poi nel quotidiano di una persona non cambia nulla non so come cioè la mia è una visione molto anarchica anche della letteratura soprattutto perché è il motivo per cui io mi sono sempre scontrata anche col meccanismo elettista che c'è attorno a questi temi però noi non siamo qua a fare pontificati allora seconda domanda di quale epoca storica ti piace leggere io ovviamente sono una motherfucking basic bitch insomma quindi la mia epoca preferita rimane quella vittoriana eduardiana regency in generale perché ci sono anche tante opere che amo ma soprattutto mi piace l'immaginario inglese mi piace anche un po' come finalmente si riesce a vedere in questo periodo il prolificare anche di tante scrittrici anche l'emergere di alcune tematiche molto importanti legate alla figura della donna che prima invece non c'erano insomma coincide quindi in pratica con il momento in letteratura con il quale ho finito di annoiarmi per il club della Braga banalmente terza domanda chiede favola o fiaba preferita io ne ho tante diciamo che sono molto legata alla figura di Baba Yaga la ciccala e la formica e una serie di cose che mi raccontava sempre mia nonna quindi c'è quella la ciccala e la formica l'uomo e la volpe e il serpente l'acqua danzante la mela che canta e l'uccello parlante la favola delle tre sorelle quella dei sette fratelli insomma sono tutte cose che sono legate molto alla mia infanzia a libri che leggevo spesso durante la mia infanzia che mi leggevano e quindi insomma queste sono quelle a cui io personalmente sono più legata comunque ho più ricordi quattro un classico che ti vergogni di non avere ancora letto io non ho letto il conte di Monte Cristo e mannaggia a me e alla Maron perché cioè non è possibile perché non so come dire io sono anche certa che sia un'opera che a me piacerà un casino perché chiunque legge il conte di Monte Cristo e arriva alla fine ne è esaltatissimo quindi niente prima o poi lo leggerò comunque ok qui da domani invece chiede i cinque classici che vorresti leggere al più presto allora vabbè vedi sopra quindi ci mettiamo anche Monte Cristo quindi diventeranno sei però io direi in primis La montagna incantata di Thomas Mann perché sono 15 anni che lo devo leggere era il libro preferito della mia professoressa di lettere delle superiori e io ancora glielo devo leggere era una promessa poi direi che ci mettiamo L'arte della gioia di Goliarda Sapienza che insomma si rende necessario leggere ora so che è un classico pubblicato postumo comunque ripubblicato così però insomma io lo devo leggere mi manca di Paola Masino Nascita e morte della Massaia che è una grande lacuna che io sento vabbè i classici dei quali parlo sono più che altro classici della prima e della seconda metà del novecento quindi ok poi ci metto Diario di un pazzo di Xun Lu che è una delle opere fondative della diciamo classiche della insomma letteratura cinese e non in ultimo mi manca un'opera di Lalla Romano che è un'autrice che io amo molto che si chiama Lo stregone e io non l'ho mai letto quindi lo dovrò recuperare ah ahimè io quando intendo classici ovviamente tendo a parlare anche di classici femminili cosa che si intende a non fare mai 6 chiede una serie o un libro preferito basato su un classico quindi immagino un retelling io retelling ne leggo pochi o non ne leggo quindi non so aiutarvi anche con questa domanda quindi passerei alla prossima anche perché questa sarà lunga allora 7 un adattamento cinematografico televisivo preferito basato su un classico allora io probabilmente proprio tra i miei più preferiti di sempre ma anche per una questione proprio storica ho Jane Eyre del 96 cioè quello bello non quello nuovo che nonostante ci fossero due bravissimi autori a me non è piaciuto poi direi un po' tutta la cinematografia legata a ovviamente Edgar Allan Poe dove erano ovviamente coinvolti Roger Corman e Vincent Price perché cioè sono state le cose più belle mai viste a me piace molto Sleepy Hollow della versione di Tim Burton perché arricchisce tantissimo l'opera ovviamente e comunque gli da una chiusa un po' più sensata da piccola cioè devo dire che il giardino segreto se non avessi visto il film non avrei mai letto il libro mettiamoci anche la fabbrica di cioccolato però quello del 71 con Jim Wilder perché ovviamente è nel cuore per sempre non che quella di Barton sia brutto ma no cioè no la serie di appunti di un giovane medico secondo me è un classico trasposto in maniera eccellente poi tanti film forse classici italiani o comunque della Hollywood anche classica penso a non so un maledetto imbroglio a sostiene Pereira di Monicelli Via col vento Dottor Zivago madonna ecco io ho letto Dottor Zivago in terza media perché ho visto il film insomma ridatemi quegli anni d'oro lì dove facevano degli adattamenti pazzeschi cioè ci servirebbe tipo una golden era però con la consapevolezza di oggi poi vi devo dire che mi sono piaciuti anche molto gli adattamenti della serie tv di Guerra e Pace non l'avrei mai creduto ma secondo me è estremamente bello mi piace ovviamente Orgoglio e Pregiudizio anche quello con Keira Knightley ma anche soprattutto quella più vetta insomma ce ne sono tanti secondo me gli adattamenti dei classici bene e male il peggiore adattamento di un classico ecco io qua devo dire che non ne ho un ricordo pazzesco quindi vi dico due adattamenti secondo me brutti probabilmente non sono di classici però il GGG per me è un classico perché Roald Dahl è letteratura classica ormai e il GGG a me ha fatto schifo è una delle mie opere preferite di Dahl ma è terribile è proprio brutta e poi vabbè io ve lo dico perché ve lo devo dire perché volevo trovare due testi e quindi vi metto anche la bussola d'oro perché io non me lo meritavo quel film brutto lì e poi a me non è piaciuto Gatsby cioè non è piaciuto è un ottimo film e a me Buzz Luhrman piace molto perché comunque in fondo io sono musical nel cuore nonostante non sembrerebbe però Gatsby secondo me rende moltissimo l'atmosfera ma a livello di non so come dire introspezione del personaggio non c'è niente cioè è un film dove i personaggi esprimono pochissimo le proprie sensazioni è tutto dato dal vuoto e pieno dell'ambientazione quindi secondo me perde molto il grande Gatsby su quello le edizioni preferite di classici che vorresti collezionare domanda numero 9 allora le mie edizioni preferite sono ovviamente cioè le Puffin Chalk anche le Rock Point Timeless Classics sono veramente bellissime le Penguin quelle in falsa pelle dei classici sono un'altra roba pazzesca le White Pockets insomma ce ne sono tante in Italia fatico a trovare delle edizioni di classici che dico wow perché probabilmente le uniche edizioni decenti sono i Draghi che sta facendo ora Oscar anche se non sono probabilmente dedicate al classico di per sé ma sono un po' una raccolta spesso di più di un'opera allora poi vi dico anche una cosa so che verrebbe quasi scontato dire che un po' le edizioni che si avvicinano un po' più all'idea inglese che si ha della rivisitazione delle edizioni dei classici sono quelle di RBA ma RBA ha delle pratiche commerciali che io non condivido quindi io non ho acquistato alcun volume perché non lo trovo corretto insomma so che se ne è parlato molto ma io non amo questo tipo di pratiche soprattutto a livello vabbè ma comunque non siamo qua a parlare per questo passiamo alla domanda numero 10 che è l'ultima domanda un classico sottovalutato che consideresti preparate l'elenco perché in primis vabbè io ve l'ho già peso in lungo e largo e devo dire che forse non è più neanche considerabile un classico sottovalutato dopo che è uscita anche la serie di Netflix Bly Manor ma Giro di vite di Henry James è uno dei miei classici preferiti ve l'ho sempre detto poi ci metto Nanà di Emisola perché io ho letto tantissima letteratura francese durante le superiori e è una delle opere che mi è più rimasta vicino al cuore non vi so neanche dire perché però non ne sento mai parlare come non sento praticamente mai parlare di Casatelli Bellamy di Guy de Montpassant io amo anche soprattutto le sue raccolte di racconti che vi consiglio tantissimo vi suggerisco anche i divoratori di anni vivanti che non ho mai sentito nominare sull'inderne vabbè Sibilla Le Ramo tutto se è fuori dai vostri radar mi raccomando una donna di Sibilla Le Ramo e tutte le sue raccolte poetiche qualsiasi cosa quella donna abbia fatto lo dobbiamo leggere vi parlo anche di Amelia Rosselli perché secondo me le sue variazioni belliche sono una delle opere più fondanti del mio pensiero che esistano e questo rende anche necessaria la famosa puntata dei Feminist Friday sulle poetesse italiane perché devo muovermi quindi viene naturale anche suggerirvi a Danegri qualsiasi cosa che lei abbia composto e la produzione immensa di Angela Carter soprattutto Notte al Circo perché è forse quella a cui sono più legata come The Bloody Chambers la camera di sangue la camera rossa in italiano mi ricordo comunque l'ho letta in inglese The Bloody Chamber Canne al Vento di Grazia dell'Edda imprescindibile secondo me infatti non si parla mai secondo me della dell'Edda o comunque troppo poco poi vi suggerisco anche Le Meteore di Tournier che ho lessi per un esame all'università e vabbè e il Samorante perché cioè raga tutto quello che ha scritto il Samorante lo dovete leggere e il Samorante lei è la più cara delle care per me e quindi non posso non suggerirvela dovete leggere tutto soprattutto la storia cioè partite dall'isola di Arturo ma dovete leggere la storia cioè quello è tutto poi mi viene in mente La Tigra Essenza di Cristina Campo ma in generale Cristina Campo e questo torniamo al punto di prima devo finire la puntata sulle poetesse italiane L'Agnese Va a Morire di Renata Viganò perché lo sento nominare pochissimo soprattutto quando si parla di letteratura della resistenza perché insomma il che sembra anche lì è un po' sempre Club della Braga categorie Ease non vi diranno mai abbastanza quanto è bello ci mettiamo Le Memorie di Adriano di Margarete Yursenar bellissimo e ci mettiamo nella stessa categoria anche Nabokov con L'Occhio che è la mia opera preferita vabbè la mia opera preferita in realtà è Lolita ma quello non è un classico poco popolare anzi molto popolare comunque L'Occhio Fuocopallido Ada Ordore e leggete sempre comunque anche Beppe Fenoglio che è il mio autore italiano preferito insieme a Cesare Pavese quindi leggete anche Cesare Pavese altra opera che io vi consiglio è un po' un'uccisione personale però c'è chiaramente Il Cavaliere di Bronzo di Pushkin ci mettiamo anche questa è proprio un'uccisione personale però leggete anche Arcipelago Gulag di Solcenici quanta roba vi potrei suggerire però la finiamo qua questo elenco di cose che dovete leggere o comunque che vi invito a leggere comunque insomma siamo arrivati alla fine di questo book tag che spero sia stato un video abbastanza leggerino un po' fuori dal comune e anche per accontentare tutte quelle persone che mi chiedono continuamente quando è che parlo di classici o di letteratura russa o di cose di questo tipo dove io cioè diciamo che non so come dire non è che non sia ferrata è che sono cose che ho letto tanto indietro nella mia vita e dove non mi voglio concentrare quindi penso che sia abbastanza comprensibile questo mio sentimento o comunque io sono qua per farvi leggere i fantasy ci sono tante persone preparatissime bravissime e super competenti su booktube che parlano di classici in una maniera dove io non sarei in grado di arrivare insomma assolutamente anzi avete capito che qua siamo solo cialtronaggine io spero che voi ce l'abbiate ben chiara questa cosa è l'ennesimo warning fuggite finché siete in tempo comunque insomma spero che sia stato carino anche questo booktube così oggi abbiamo visto un po' di opera delle quali non parlo mai e niente quindi insomma spero sia stato interessante anche questo video che proprio balza su una categoria che qua non trattiamo mai fatemelo sapere giù nei commenti insomma raccontatemi anche magari qual è il vostro classico preferito perché e quale di questi magari avete letto che ho nominato o fatemi sapere quali sono i vostri adattamenti preferiti insomma sono molto 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 curiosa o dei retelling che vi sono particolarmente piaciuti visto che non ho risposto a quella domanda io direi che per questo video è tutto spero di avervi tenuto compagnia e direi che per tutto il resto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao